Cari amici, sapete che quando dico che i tradizionalisti in realtà sono amici di Bergoglio, lo difendono, molto spesso reagiscono sdegnati, no, noi, ma quando mai, noi semplicemente lo facciamo per amore della verità, eccetera. Benissimo, adesso la ineffabile trasmissione Codice Runner ci propone, questa volta un contributo interessante, ecco, forse è la prima volta che produce qualcosa interessante, un intervista, non so, un intervento dalla professoressa Geraldina Boni, canonista. Questo intervento è previsto per il 4 luglio alle ore 21, una canonista risponde, si intitola. Bene, la professoressa Geraldina Boni è una canonista che lavora a stretto contatto con Bergoglio, ha fatto dei gruppi di studio sulla sede impedita, sul Papa Emerito, lavora a stretto contatto con Francesco e quindi possiamo dire che lo difende a spada tratta, lei l'ha sempre difeso nella sua legittimità. Quindi, se noi diciamo che i tradizionalisti sono amici di Bergoglio e lo difendono, oggi avete la dimostrazione patente, dato che, pur di dire male di Papa Benedetto XVI, non importa se invitano la canonista che difende addirittura la legittimità di Bergoglio, perché a loro, diciamo, fa poca differenza che la declarazione sia nulla invalida, perché Ratzinger era eretico e modernista e quindi ha scritto male la declaratio. Adesso va bene anche che Bergoglio sia legittima, pur di dare contro al Papa Benedetto XVI. Ecco, questo li pone in una situazione storica, culturale e spirituale molto difficile, molto difficile, perché c'è un dogma che è quello dell'indefettibilità della Chiesa, per cui la Chiesa come istituzione non sparirà mai e quindi, diciamo, in ottica di fede loro sono, potremmo dire, condannati. Ecco, chi sta per cominciare una carriera da teologo evidentemente, diciamo, non avrà molte prospettive. Chi ha una fortunata carriera da canonista alle spalle, inevitabilmente farà i conti con la verità che emergerà. Chi non ha nessuna carriera, tipo Antonio Bianchi, di cui non sappiamo nulla, non sappiamo che lavoro faccia, non sappiamo che tipo di studi abbia, probabilmente rimarrà lì dov'è e sarà dimenticato. Ma questo contributo della professoressa Boni è interessante, perché ci fornirà molto materiale. Allora, innanzitutto vorrei porre alcune questioni alla professoressa, già che risponde a codice runner, magari risponderà anche a qualche mia domanda. Ecco, approfitto, colgo l'occasione per imbucarmi nella trasmissione e porre alcune domande alla professoressa Boni, la quale sicuramente impernerà il suo discorso in modo esclusivo sull'aspetto canonico, ma qui non c'è solo l'aspetto canonico, c'è anche un aspetto che riguarda la comunicazione di Papa Benedetto. E poi c'è un aspetto metodologico, perché vedete, in un contesto scientifico, quando c'è un dibattito, si smonta la tesi dell'avversario, prendendola in considerazione. Non dicendo, no, secondo me ha fatto così, ha fatto tutta altra cosa, eccetera. Se io porto avanti una ricostruzione dettagliata di quello che ha fatto Papa Benedetto, una dichiarazione con cui lui si faceva porre in sede impedita dalla convocazione di un conclave abusivo, bisogna contestare quella. Tra l'altro c'è una traduzione latina, sottoscritta da tre illustri latinisti, il professor Mosetti Casaretto dell'Università di Torino, il professor Gian Matteo Corrias, editore delle opere di Lorenzo Valle, il professor Rodolfo Funari, massimo traduttore di Sallustio, tutti e tre hanno convenuto sulla stessa traduzione, che, guarda caso, è perfettamente funzionale, ad annunciare una prossima sede impedita. Ora, io sono sicuro che la professoressa Boni insisterà molto su questa cosa, il monus e il ministerium, che sono sinonimi, sono usati interscambiabilmente, è tutto uguale, è tutto lo stesso, eccetera, eccetera. Magari ci dirà anche che Ratzinger non era canonista, pur avendo lui stesso sovrinteso alla nuova edizione del diritto canonico, avendo inserito emendamenti e nuove formule e strutture giuridiche, come lui stesso dice di aver fatto per incarico di Papa Voitigua. Allora, domanda secca, domanda secca per la professoressa Boni. C'è un solo caso in cui la parola ministerium viene utilizzata come sinonimo di monus petrino? Ripeto, c'è un solo caso in cui la parola ministerium viene utilizzata come sinonimo di monus petrino? Perché il ministerium è l'oggetto di questa dichiarazione di rinuncia, e non altre cose. Se il monus e il ministerium fossero sinonimi, perché Papa Benedetto non ha detto beh, siccome le mie forze non sono più adatte per esercitare il ministerium, petrino dichiaro di rinunciare al monus. No, se sono uguali, uno valeva l'altro. Seconda domanda, se fossero sinonimi, come mai nella versione tedesca il monus amt e il ministerium d'inst sono stati scambiati di posto? Terza domanda, come mai il Cardinale Sodano, subito dopo le dimissioni di Papa Benedetto nella Declaratio, non parla di abdicazione di fine del pontificato, ma solo di fine del servizio pontificare? Come mai Papa Benedetto, nell'arco di nove anni, da emerito, non ha mai smentito Domi Nutella né il sottoscritto? Eppure ha avuto modo di scrivere a Cionci, quando gli ha risposto tramite Monsignor Genswain. Come mai ha detto, pur con ogni buon intento non è proprio possibile riceverla. Avrebbe dovuto dire, senta, per favore la smetta di propalare tutte queste sciocchezze, no? Perché la tesi Cionci ha provocato grande scandalo, ha provocato grande inquietudine, grande angoscia fra i fedeli, eccetera. Altra domanda, perché Papa Benedetto non ha ratificato questo presunto atto canonico dopo le 20 del 28 febbraio? Dalle 17.30 fino alle 20 era ancora Papa, poteva cambiare idea. Secondo la professoressa Boni, la chiusura del portone alle 20, abituale, tutte le sere, può essere considerato un atto canonico? Come mai Papa Benedetto dice, sono il primo Papa a essersi dimesso dopo mille anni, e l'unico ad averlo fatto nel pieno possesso dei propri poteri. Io ho dato una spiegazione coerente al millimetro, con l'esempio di Benedetto VIII, che nel 1013 aveva fatto una dichiarazione di rinuncio al ministerium, un ministerium che lui si era, per così dire, autoconferito in modo abusivo, senza aspettare il placet dell'imperatore Enrico II. Quindi Papa Benedetto è il primo Papa, dopo mille anni, a fare una dichiarazione di rinuncio al ministerium, e ricordiamo che è l'ultimo obbligatario del 1415, Gregorio XII, ed è il primo Papa della storia a fare questa dichiarazione di rinuncio al ministerium, mentre effettivamente lo possedeva legalmente. Vorrei sapere anche, in questo contesto, perché comunque la professoressa Boni è un avvocato, è un avvocato, quindi diciamo, non è che si vive solo nel ristretto mondo dei cavilli canonici, ci sono anche altri elementi di contesto. Dal punto di vista dei ristretti elementi canonici, è vero o non è vero che in sede impedita il Papa trattiene il munus, ma perde il ministerium di ordine pratico, perde la possibilità di annunciare il Vangelo e di governare la barca di San Pietro, mentre conserva la possibilità di soffrire e pregare. È vero o non è vero che in sede impedita si verifica questo? È vero o non è vero che il Papa in sede impedita che conserva il nome pontificale, lo stemma, la benedizione apostolica ed altre prerogative che appunto riguardano il suo munus? E come mai risponde a Tornielli dicendo nel momento della rinuncia non c'erano altri vestiti, non c'erano altri abiti disponibili, e quindi ho conservato per questo la veste bianca e il nome pontificale. Del resto porto l'abito in modo diverso da quello del Papa. Ecco, io ne ho dato una spiegazione, il Papa impedito mantiene il nome pontificale, veste bianca, perché non è che c'è una veste particolare, verde, blu, da Papa impedito, mantiene la veste bianca, solo che Benedetto ha tolto la mantelletta e la fascia alla vita. Allora, come si spiegano tutte queste strane dichiarazioni di Papa Benedetto? È vero o no che esiste la restrizione mentale larga? Un modo di comunicare in casi particolari, quando si è sotto minaccia, sotto costruzione, in difficoltà, quando dire la verità in modo chiaro e palese può creare dei danni? È vero o no che esiste la possibilità di usare questo concetto della teologia morale? Ultima domanda per la professoressa Boni. Come mai Monsignor Genswain va alla lunsa, riferisce le parole di Benedetto e dice, potete credere o non credere? Se non credete la risposta è nel libro di Geremia, dove si legge io sono impedito. Allora, vorrei una risposta razionale però. Un Papa che da tre anni ormai, quant'era? Sì, tre anni, due anni e mezzo. Veniva, tra virgolette, accusato pubblicamente di essere in sede impedita. Manda Genswain a dire, se non credete la risposta è nel libro di Geremia, unico libro in tutta la Bibbia dove si legge io sono impedito. E non è casuale, perché tutto il libro di Geremia è imperniato su un profeta impedito. Eh no, ma cita anche il libro di Seglia. Benissimo, nel libro di Seglia si parla di un prigioniero che viene liberato e che mette in prigione i suoi persecutori. Bene, io credo di aver fornito qualche utile domanda alla professoressa Boni e sono grato a Codice Runner se vorrà sottoporre alla docente queste domande, queste questioni. noto con piacere che Codice Runner si rivela apertamente in difesa di Bergoglio perché appunto non si limita adesso solo a far vedere quanto Ratzinger fosse modernista ed eretico ma contemplando appunto l'idea di una declarazione nulla invalida ma adesso addirittura chiama in causa proprio gli avvocati che difendono Bergoglio i caronisti che difendono Bergoglio grazie, un caro saluto a tutti